più volte annunciato, c'è appena raggiunto al telefono il senatore Matteo Renzi, ben ritrovato senatore, buongiorno, buongiorno da Napoli. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Una buona giornata, allora partiamo, prendo a spunto un'intervista, un recente articolo scritto proprio sul suo nuovo movimento, su Italia Viva, per sottoporle questa domanda, perché viene scritto in questo articolo che lei non avrebbe in realtà approfondito il concetto di società che vorrà, che cosa sta cercando Italia Viva e in quale formazione si vuole muovere in futuro, per cui semplicemente ha fatto una scissione ma senza raccontare meglio dove vuole andare. Ci aiuta un po'? Vabbè, io sono abituato alle critiche, quindi ormai ci ha fatto il callo. A me sembra che quello che sia accaduto in quest'estate è roba da manicomio della politica per tutti, perché Salvini ha fatto una follia, della quale è il primo responsabile ed è anche la prima vittima. Ha pensato di piegare le istituzioni ai suoi interessi e tra un mojito e una cubista ha combinato quel pasticcio che sappiamo. A quel punto noi eravamo a un bivio. O facevamo l'accordo con chi, ad esempio, il Movimento 5 Stelle abbiamo sempre combattuto, e aggiungo io continuo ad avere una distanza siderale, abissale dai 5 Stelle, oppure mandavamo il Paese a votare con il rischio di far aumentare l'Iva e di mandare l'Italia a gambi all'aria. A quel punto, dovendo fare questa scelta, se avessi dovuto ragionare soltanto del mio interesse o del mio carattere, che è un po' fumantino, lo so, ma se avessi dovuto pensare soltanto alla mia convenienza e al mio carattere avrei detto sai che c'è? Ma vabbè, noi mostriamo che i 5 Stelle hanno sbagliato, andiamo a votare e distruggiamoli. Il punto è che avremmo distrutto il Paese. Ecco, tutta questa lunga spiegazione porta a capire perché nel corso del mese di agosto noi abbiamo fatto un nuovo governo per cercare di evitare la crisi economica, per riportare l'Italia in Europa, per farci dare una mano dall'immigrazione all'economia e contemporaneamente però a quel punto era naturale prendere atto. Gli ascoltatori lo sanno molto, 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 molto bene perché ci seguono da anni che le strade tra il PD e il sottoscritto erano ormai da dividersi. Insomma, sono 7 anni che litighiamo tutti i giorni. Anche le coppie hanno la crisi del settimo anno. Non è possibile che tutti i santi giorni ci sia una polemica e una divisione. Allora io ho detto una cosa semplice. Amici, per me, grande rispetto per chi rimarrà nel PD però vorrei parlare del futuro della società. Oggi c'è un'intervista bellissima a Bill Gates sul Repubblica Il mondo migliore ma abbiamo bisogno di investimenti sul verde, sulle energie rinnovabili, sulla sostenibilità. Arriva l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale. Voglio un movimento, un partito che metta al centro le donne per ciascun compito, ruolo, ci sarà una donna e un uomo. Insomma, è tutto il contrario. Noi vogliamo immaginare un partito che non sia un partito di Renzi o di un altro ma sia il partito del futuro. Senatore, io prendo le sue parole. Le ha appena detto, ma si sa, le mie distanze con i 5 Stelle restano siderali. Ora, pensando a noi italiani, ora lasciamo da parte tutto il resto. Veniamo da un anno e mezzo di distanze siderali della maggioranza che hanno prodotto tensioni continue, delle difficoltà enormi. Non è che dal giallo verde al giallo rosso, partendo dalle sue parole, distanze siderali, qui ci ritroviamo tra poco, punto e a capo? Io le confesso, lei lo sa Giuliani, io ho sofferto nel dare il voto di fiducia a chi mi ha insultato, mi ha offeso, ha insultato la mia famiglia. Io ho sofferto. Però penso che se fai il dirigente politico, prima dei tuoi risentimenti personali, viene l'interesse di tutti. Ragazzi, l'Italia rischiava di andare a gambia all'aria, non lo dice nessuno. Ma noi, con i pieni poteri di Salvini, avremmo rischiato persino di uscire dall'Euro. Ma ora voi siete nella meraviglia di Napoli, sul lungomare di Napoli. Ma sentite le aziende del nord-est, gli artigiani del nord-ovest, gli imprenditori che investono, se davvero uscire dall'Euro è una buona idea o no. Avremmo portato sull'astrico intere famiglie. Allora, prima della mia personale voglia di rivincita contro il Movimento 5 Stelle viene l'interesse del Paese. Adesso si tratta di fare una cosa non di palazzo, io non ne posso più di queste ricostruzioni di palazzo. Io chiedo a chi ci ascolta, mi va di fare una politica diversa, nuova, di tornare allo spirito con cui nel 2012, nel 2013 abbiamo anche in qualche modo fatto sognare una parte di Paese. Io voglio tornare lì, riparto da zero, riparto da capo, mi metto in discussione, mi metto lo zaino in spalla da Boy Scout e mi rimetto a camminare. Dopodiché per me sarebbe stato molto più comodo starmene buono in un angolino. Ma è l'Italia che ha bisogno di una cosa nuova e chiedo a tutti quelli che ci credono di venire a darci una mano a cominciare dall'Avolda. Avete notato, senatore, mi scusi, non ho mai risposto su quello che succede adesso con il governo. Lei, mi permetto l'espressione, fa il bravo con Conte o Conte si deve preoccupare? Così ci capiamo. Ma io ho questa idea di... Ma è ovvio che noi abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo. Scusi, l'abbiamo fatto nascere. Perché questa cosa che uno fa nascere il governo il 4 settembre e lo fa crollare il 24 settembre è roba che neanche nei manuali di schizofrenia si trova. Quindi è evidente che noi abbiamo interesse che il governo faccia le cose che funzioni. Noi diamo una mano. Anzi, ci sarà qualche voto in più per il governo, non qualche voto in meno. Però mi permetta di dire che se è vero come è vero che abbiamo sconfitto Salvini nel palazzo, anche per colpa di Salvini, il ragazzo ci ha messo del suo. Perché, come dire, un mojito in meno e non succedeva niente. Questa è la mia opinione. Se è vero che l'abbiamo sconfitto nel palazzo, è vero che va adesso combattuto in mezzo alle fabbriche, tra le persone, nei centri presenti del volontariato. A me è una cosa che mi fa arrabbiare di Salvini è il modo con il quale strumentalizza le vicende degli abusi sui bambini. Se c'è un abuso sui bambini, quella è una vergogna scandalosa, squallida, che tutti dobbiamo combattere. Non possiamo portare le divisioni dei partiti dentro gli abusi dei bambini, perché non è un partito che fa un abuso a un bambino. È un criminale. È un uomo vergognoso uno che abusa di un bambino. E deve essere colpito, criminalizzato non da un partito, ma da tutti. Mi piacerebbe rifiare un po' di buonsenso e per questo nei prossimi mesi, dopo la Leopolda, io girerò molto in macchina, giro per le fabbriche, le aziende, le associazioni di volontariato. Io mi rimetto in gioco. Il governo deve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema. C'è un patto di governo che lavorino e noi facciamo non soltanto il tifo, ma diamo una mano. Lei sa che abbiamo un capo delegazione di Italia Viva che si chiama Teresa Bellanova, e che è una donna straordinaria, che è stata criticata per il suo vestito da qualche indecente chiacchierone, ma che è una donna che faceva l'abbracciante, che è diventata sindacalista, che ha lavorato come una matta e poi è diventata ministro. Meraviglioso simbolo di emancipazione e di lotta di una donna del Sud. Renzi, c'è questo programma che è stato stilato all'inizio di questo governo con 29 punti, sono tantissimi, sono declinati. Effettivamente se uno lo legge dice, bello questo, ma sì che bello, facciamo anche questo. La pace del mondo. Tutto, mancava, era l'ultima voce, sarebbe stata la trentesima, la pace del mondo non l'hanno messa. Però certamente bisogna dare a un certo punto delle priorità. Ecco, chiediamo a Matteo Renzi le sue priorità rispetto a queste linee programmatiche. Fermo restando che il documento programmatico va bene, se dovessi dirle una cosa che a me sembra prioritaria oggi in Italia è un grande investimento sui figli, sugli asili nido, sul futuro dei bambini. Nella scorsa legislatura noi abbiamo fatto il Jobs Act, lei ricorderà che è stato anche oggetto di grandi discussioni, però i dati dicono che il Jobs Act ha portato un aumento di oltre un migliore di posti di lavoro, ma questo è il passato. Oggi occorre, come ha detto la ministra Bonetti, che è la ministra della famiglia, un Family Act, che vuol dire assegno universale per i figli. L'Italia è il paese che fa meno figli di tutti. I nostri ascoltatori sanno che trent'anni fa c'erano un milione di bambini che nascevano in Italia. Oggi, nel 2018, nell'anno scorso, sono stati meno di mezzo milione. E attenzione, compresi i migranti. Quindi non è nemmeno un problema, poi c'è la sostituzione. No, un milione di bambini nascevano in Italia negli anni 80, adesso sono mezzo milione, compresi le persone che sono arrivate in Italia. Vogliamo dire che la maternità non può essere un lusso in questo paese? Se lei mi domanda qual è la priorità numero uno per me, non è l'emergenza democratica, ma è l'emergenza demografica. Non fa più figli l'Italia, bisogna tornare e incoraggiare. Questo vuol dire dare una mano alle donne, sostenerne la possibilità di lavorare, mettere leggi che aiutino sugli asili nido e sui congedi, parentali, tutte le cose che sappiamo e poi l'assegno universale per i figli, che è una nostra proposta. Ma devo dire che su questo c'era anche un impegno, sia di Di Maio che addirittura di Salvini. Quindi, siccome su questo siamo tutti d'accordo, sarebbe bello che l'Italia una volta votasse una legge tutti insieme. La legge, il Family Act, la legge per dare denaro per ogni figlio e soprattutto per dare servizi per ogni famiglia. Senatore, noi mezz'ora fa abbiamo parlato qui, l'abbiamo anche ricordato, della Apple Academy. Apple Academy che ha dato speranza a tanti ragazzi napoletani e non, voluta ai tempi del suo governo e ci ha fatto piacere ricordare quello che al di là delle posizioni di ciascuno fu un qualcosa di importante che sta bene in salute e continua a lavorare. Noi siamo in onda in questi giorni particolarissimi con due giovanissime colleghe, Ilaria e Cristina, siamo ben sotto i 30 per capirci, è poco sopra i 20. Lei sa benissimo che la politica a questi ragazzi fa una fatica bestiale a farsi capire, non so. L'hanno ascoltata in religioso silenzio, Ilaria e Cristina, adesso la sentono ancora. Recuperare il rapporto diretto con un pezzo d'Italia, sono sempre di meno questi ragazzi, eh, senatore? E infatti noi abbiamo parlato per mesi e mesi di immigrazione, che è un tema naturalmente che va affrontato e pochissimo di immigrazione, di ragazzi che se ne vanno. Il fatto che lei mi citi la Apple Academy non dico che mi fa venire un brivido lungo la schiena o sulle braccia, ma quasi, perché la Apple Academy è stata una grande conquista. Quando parlai con Tim Cook, che è il CEO, l'amministratore delegato di Apple, aveva dei dubbi su farla a Napoli, perché il racconto che veniva dato di Napoli e del Mezzogiorno era un racconto solo fermo agli stereotipi, alla criminalità. Bene, è stato un onore per me da primo ministro collaborare, non diciamo convincere, collaborare a quella scelta. Ed è un onore vedere, ne parlavo l'altro giorno con una delle vice president di Apple, Lisa Jackson, i risultati strepitosi che da Napoli, dalla Federico II, dalla intelligenza dei giovani partenopei e dei giovani meridionali Apple sta ricevendo, sta ricavando. Insomma, bisogna crederci, perché se uno ci crede i risultati arrivano. Io mi rimetto in gioco, anche per questo, a me conveniva stare bene fermo. Giulia che lo sa, uno sta meglio in un partito grande, tranquillo, per viso riverito. La mia concezione della politica è che bisogna fare le cose rischiando. È successo quando dovevo fare il sindaco, è successo quando dovevo fare il presidente del Consiglio. Talvolta ho perso come referendum, in modo clamoroso, ma è comunque uno stile. Io non sarò mai uno che baratta la propria libertà con la comodità. Preferisco rischiare e mettermi in gioco e quindi tornare a Napoli e nelle altre realtà, parlare ad esempio con i millennials, è una cosa che mi fa emozionare. E saranno due millennials che gestiranno quest'anno la Leopolda dal 18 ottobre numero 10. No, fa piace. Poi noi controlleremo, perché felicissimi di sentirlo, è chiaro che se poi tutto si riduce, ah, il numero di sottosegretari, incalzare. Le poltrone, le poltrone. No, le poltrone magari neanche, ma mi dovete ascoltare. Non sto parlando solo di Renzi, parlo di tutti. Siamo reduci da un governo complicatissimo di Maio Salvini. Quello, secondo me, gli italiani non lo reggono più, onestamente. Ma fanno bene e non reggono. Quindi vi osserveremo con attenzione, sinceramente, perché l'impegno è complicato. Sa cosa abbiamo fatto quest'agosto dove si è tanto discusso comprensibilmente di questioni di palazzo? Io ho fatto una delle cose che più mi è piaciuta della mia esperienza politica, che è stata quella di mettere il mio stipendio di senatore a disposizione di una scuola di formazione. Ci siamo riuniti per quattro giorni in provincia di Lucca e andando in questo luogo abbiamo portato 250 ragazzi under 30, dovevano essere erati dal 1990 in su. I più piccoli avevano 16 anni, forse c'era persino troppo a distanza, perché tra 16 e 29 anni forse abbiamo un po' esagerato. Abbiamo fatto quattro giorni di formazione politica, finanziata da noi. Cioè abbiamo messo una parte dei nostri soldi per restituire a chi? Ai ragazzi che hanno incontrato persone di qualità. È stato bellissimo. Posso dirglielo? I millennials sono molto meglio di come vengono rappresentati. Sempre detto qui, l'abbiamo detto, sono anni che lo andiamo dicendo. Lo sosteniamo da sempre, grazie. Grazie senatore Matteo Renzi, buon lavoro, a presto. A voi, ciao, buona giornata.